Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi andrete a vedere la mia prima pescata vera e propria a slow pitch dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, preparatevi perchè ci sono delle scene epiche che fidatevi non ho mai visto niente del genere dunque mi raccomando superiamo i 120 mi piace per questo video non perdiamo altro tempo che vi ricordo che ci vengono a tenere che marco di prossimo uscirà un super video e dopo qua a settembre incominceranno di quelle bombe di video che dunque direi di... non parlo d'altro tempo e via con il video al mulinello una bella manopolozza pesciotto sul fondo pesce sul fondo e vediamo soggi da 60 grammi vediamo what happens ecco lì eccoli preso uh bello scombro vediamo col rilascio col soji vai vai eccola la proviamo a prendere altre date che ce ne sono sto iniziando a capire questa bella tecnica ho preso 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 raga eccolo qua oh guarda che bello sgombro no si è rilasciato anche da solo facciamo scendere ho preso uh uh interessante scombro bello vai in acqua dai bellissimo questa tecnica bellissima preso 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 devo chiudere la frizione ma preso uh 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 che sugarello raghi che sugarello guardate che roba allora orco can era bella violenta questa preso guardate cosa guardate è grande come il jig dai dai piccolino torna a casa eh però se ti appendi pure sull'altro amo dai vai dai piccolino uh bella robetta sul fondo raghi andiamo a prendere i big ones orco can uh bello bello si urco bello minchia bel pesce ah no si è torcigliato però ragazzi guardate che bel pesce che big suerelli ok ci sono dei pesce anche sul fondo porco cane ha attaccato in superficie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti lateralmente a 3 metri di profondità urco mi ha seguito mi ha seguito ecco preso no niente perso vediamo 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 torniamo a slowy pitch eccolo no si 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 sta venendo su cosa abbiamo in canna va che roba ciao va che roba un tonnetto praticamente un cazzo di tonnetto non so se ci intendiamo io provo lo stesso sul fondo e infatti in caduta ecco qua micro piccolino ok vai proviamo a cambiare jig ai sgombri sugarelli piace di più il soji proviamolo sulla colorazione red golden head golden red anche le onde non scherzano in superficie eccoli qua li vedete sono qua guardati guardateli sono qua guardati eccolo qua uno eccolo qua sgombro e